Tra i firmatari della proposta di legge per combattere lo spopolamento in Abruzzo c'è Pietro Quaresimale, capogruppo della Lega. Allora, come combattere lo spopolamento? Con quali misure? Sì, avevamo appunto fatto un'analisi, avevamo riscontrato appunto che nell'ultimo periodo, dovuto a tanti motivi, c'è stato lo spopolamento nelle aree interne, soprattutto quelle montane. Quindi come regione ci siamo attivati per fare una proposta di legge, tra cui io sono uno dei firmatari, per cercare di incentivare affinché la gente torni a vivere in questi paesi montani, che poi hanno anche delle caratteristiche particolari. Per incentivare appunto questo ritorno in queste zone montane prevediamo un premio per la natalità, quindi ci sono diversi requisiti per poter accedere a questo fondo e soprattutto se una coppia va a vivere appunto all'interno di queste aree montane. Questo speriamo che sia elemento per far tornare gente e evitare ulteriormente lo spopolamento di queste zone che comunque rappresenta anche un incentivo turistico per la nostra regione. Il calo demografico è una realtà drammatica in tutta Italia. La regione Abruzzo subisce praticamente il doppio del resto della media nazionale, invece la media nazionale è un po' sotto l'1%, l'Abruzzo è quasi al 2% di calo demografico negli ultimi anni e alcune aree, segnatamente piccoli paesi e quelli che sono in montagna maggiormente, subiscono questo calo addirittura oltre il triplo. Stiamo parlando del 6,5%. Ci sono alcuni comuni che in 5-10 anni hanno visto diminuire del 18-20%, anche 25% la propria popolazione. Noi vogliamo intervenire dando un sostegno economico alle famiglie che fanno nascere figli in questi posti o a chi intende trasferire la propria residenza aprendo anche magari un'attività. È una misura che cerca di incentivare le persone a continuare a vivere in determinati luoghi o di tornarvi dopo che magari per varie ragioni si sono trovati costretti o più comodi di ascendere a valle, andare nelle grandi città per poter affrontare in maniera più comoda la vita lavorativa però pagando anche dei costi perché poi vivere nei centri urbani costa di più, le case costano di più, i valori immobiliari sono più elevati, il costo della vita è diverso. Quindi cerchiamo di creare quella misura o di intervenire su una misura economica che renda appunto conveniente la scomodità di continuare a vivere in montagna e cercando di dare una prospettiva, anche un incoraggiamento a chi fa questa scelta di vita difficile ma per noi essenziale per mantenere la vitalità di luoghi che non possono trasformarsi in musei a cielo aperto o in presepi da visitare a Natale ma devono tornare ad essere delle comunità vive e vitali. Grazie. 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 Grazie.